Ciao a tutti, sono Claudia Pastilli, la responsabile della formazione di Promofarma. Oggi vi presento la nostra linea Varistasi. La linea Varistasi è specifica per il benessere delle gambe e migliorare la funzionalità del microcircolo. I prodotti che lo compongono sono Varistasi Plus Compresse, un integratore a base di pino, centella e l'espedefa, e Varistasi Plus Gel Gambe, un gel fresco per donare un immediato sollievo. L'insufficienza venosa è un comune disturbo della circolazione caratterizzato da un difficoltoso ritorno del sangue dall'estremità al cuore, causato principalmente dalla perdita di elasticità dei vasi e dal malfunzionamento delle valvole al loro interno. I principali fattori di rischio che possono causare l'insufficienza venosa sono molteplici, in particolare età avanzata, predisposizione genetica, scarsa attività fisica, il passare molte ore di tempo in posizioni statiche, una scorretta alimentazione e la ritenzione idrica. La manifestazione più tipica di una cattiva circolazione è la comparsa di vene dilatate sulla pelle delle gambe e di altre parti del corpo, segno di un ristagno del flusso sanguigno. Per alleviare la sintomatologia dell'insufficienza venosa, noi di Promofarma abbiamo ideato un integratore in compresse che svolge sia un'azione flebotonica sia un'azione drenante. Si tratta di un mix a base di estratti vegetali. Abbiamo il pino che svolge una forzazione antiossidante, abbiamo la centella che favorisce il microcircolo ed infine l'alespedesa che aiuta a drenare i liquidi corporei. Per un'efficace azione consigliamo l'assunzione di una compressa al giorno per almeno 20 giorni consecutivi. Per completare il trattamento, i nostri ricercatori hanno formulato un gerro infrescante che dona un sollievo immediato dal senso di pesantezza e dal gonfiore delle nostre gambe. Va applicato una o due volte al giorno sulle gambe con un massaggio dal basso verso l'alto fino a completo assorbimento. Grazie per essere stati con me, ci vediamo alla prossima!